Questo è l'ultimo dosi del Paes Aruba, il Fondo Monetario Internacional, IMF, che ha fatto un'investigazione, che si chiama il Wage Bill, cioè il gasto che si rilassiona con il gasto di personale per il Paes Aruba. Non so, perché il presupposto di Paes Aruba è un gasto grande, il gasto di personale e anche il gasto di interesse. E per il motivo di Paes Aruba, 5, ASI e 5, una certa decisione è per contenere il gasto di Paes Aruba per non si crescere e come contemplare che per la bata di Pesarte per il loro tempo non portare il presupposto, ma anche con le finanze pubblico che sono rilevante e sostenibile. La IMF ha fatto un'investigazione, e sa qui è brinda alcun risultato preliminare. Quando è momento da qui mi devo attaccare a 13 di lante, compartir junto con il pobo di Arroba. Mi devo avviare a adelantare e sa qui. E' informazione che avevo 13 di lante sopra l'IMF, ci sono anche una comparazione del gasto antipersonale di noi, comparando con il paese, ma è una grande maniera di noi, però anche comparando con il settore privato, es decir, il gasto antipersonale di servidor pubblico junto con il settore privato, ma ci sono ora e non hanno un tour porti un'bista di come sa qui sta relatando a altro. E' un empleato pubblico, mi tengo un'bista e un mensaggio che non e' informazione che aveva nostra presenta, non c'è un'informazione per assinare, raiare, attaccare l'impleato pubblico off per ponere in maniera di vista un spot fastidioso per cui è stato nel settore privato. No. E' intenzione di informazione qui sta per il popolo in generale, per il governo in particolare, in situazione finanziaria, che aveva una buona vista di chi c'è gasto antipersonale, chi c'è un driver, chi c'è subito e gasto antipersonale, e con questo qui sta rincare in un'altro. E' sei, ta netamente intenzione di investigazione e anche il risultato che ci sono presentati. Se ci sono qui non, è indicato, e ci sono in comparazione, maniera che ci sono indicati qui non, con lo qual è il gasto di personal per lo qual è il governo, e lo qual è il governo che paga da substanzialmente ma sopi che il settore privato.